La messa crismale è quella in cui il Vescovo consacra gli oli santi, l'olio dei catecumeni, l'olio del crisma e l'olio degli infermi, che saranno preusati durante l'anno liturgico per celebrare i sacramenti. Gli oli sono stati al centro dell'omelia del Vescovo di Chiavari durante la messa del mercoledì santo, parlando al clero diocesano e ai fedeli presenti. L'olio è unico, ma la sua funzione salvifica è triplice, ha spiegato Monsignor Devasini, aggiungendo l'unzione con questi in fondo al vigore di Cristo che ha la forza dello spirito. Si è quindi soffermato sulle diverse funzioni. L'olio dei catecumeni, quello usato nel battesimo, rappresenta la misericordia che è donata ai battezzati. La misericordia non è un facile condono, non è una cosmesi del male, ma un balsamo per la lotta, per vivere la vita in modo agonistico, militante e combattivo contro il male. L'olio crismale, quello usato nel battesimo, nella cresima e nell'ordinazione dei presbiteri e dei Vescovi, è quello che consacra nella responsabilità della vita cristiana. Introduce in una comunità da costruire, senza cadere, nell'individualismo. Quindi il Vescovo cita Benedetto XVI, la chiesa non è mia, non è nostra, ma è del Signore. L'olio degli infermi, quello che viene usato nell'unzione degli infermi, è l'olio che benedice nella sofferenza, risolleva, accompagna, accarezza. L'olio degli infermi, prosegue, indica un compito di sempre per tutti i cristiani, la visita agli ammalati, la vicinanza alle persone sole, l'ascolto delle malattie spirituali. Infine, Monsignor De Vasini si rivolge ai presbiteri nel chiedere di essere ungitori perché unti, capaci di uscire da loro stessi e donarsi agli altri. Aggiunge anche, vi chiedo però di mettere in questa categoria altri non solo la nostra gente, ma anche il nostro presbiterio. Proprio così, impariamo ad ungerci a vicenda, con l'olio della comprensione, del dialogo, del perdono, superando individualismi e frantumando ogni barriera derivante da tanti pregiudizi. Poi, ai fedeli presenti, l'augurio a vivere il tempo pasquale con la voglia di imparare di chi desidera scoprire il segreto della pace, il sentiero della salvezza. Solo così potremo veramente imparare dal Signore come seguirlo in questo tempo faticoso e cariche di sfide. Solo così potremo finalmente imparare qual è la nostra missione, a cosa siamo chiamati, cosa desidera il Signore dalla sua Chiesa.